Buon pomeriggio, grazie per essere qui tutti quanti numerosi nonostante le condizioni climatiche avverse, ormai questo è un ritornello che direi che non smetterà di piovere. Invito subito Alessandra Nacellotti e Enrico Masi, non può piovere per sempre, con questo messaggio di speranza proviamo già a cominciare la proiezione del film. Luca sta lucendo, a proposito di Carlo Levi non anticipo niente del film, volevo soltanto cogliere l'occasione visto che oggi abbiamo la giuria nella proiezione ufficiale tutte e tre insieme, quindi li presento, sono Anina Peltstein, Alessandra Mastri Pietro e qui con mezza presa. Ok, io ho esaurito la mia memoria, nel senso che 5 nomi, un titolo di un film è il massimo che posso fare, per cui lascio la parola a voi per un brevissimo saluto, ricordatevi che tutto quello che spendete adesso lo perdete al quell'entro. No, vorremmo solo ringraziare tutti per essere qui e il festival per aver creduto in questo progetto e perché il film ha un grande cuore torinese e piemontese. Direi anche un grande cuore universale, speriamo. Grazie a voi e buona proiezione, siamo qua alla fine per confrontarci. Grazie. Grazie.